Benvenuti in questo nuovo video di Elisa delle Città le Magiche Allora, benvenuti in questo nuovo gioco Allora, io lo pronuncio male come si chiama Lo so ma lo pronuncio male, quindi non lo dico Allora, questo personaggio mi ricorda il personaggio di Roblox Si, ci assomiglia molto Comunque Oh mamma mia, tutti hanno un petto e io no Ma io ce l'ho il petto almeno Non ce l'ho il petto, ce l'avevo schiuso forse Si, e mi è uscito questo qua, questa paperetta Allora Io ho 8000 soldi Quindi forse mi posso comprare un vestito Quindi, attimo a decorare Allora, mi spinta che c'è un vestito Un messaggio Vabbè In che senso Save out Come ho fatto un aggiornamento Allora, vediamo se hanno fatto i nuovi capelli Mentre io non ci giocavo Perché io ce l'ho avuto Da sempre Questo Questo gioco Ce l'ho avuto comunque da un sacco di tempo Quindi Proprio per questo Allora, vediamo se hanno fatto nuovi capelli Comunque Non ne vedo nuovi Non c'è Non è Un rubito L'ho avuto Allora, vediamo se Allora hanno fatto nuovi capelli ok però cioè sono tutti per maschi dai Non ce ne sono femminili al massimo posso prendermi queste qua No sono pelata no 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 sono questo Poi vediamo se hanno fatto qualche magliettina nuova io non ho Allora ce n'è una nuova che hanno fatto però cioè costa 100 non so la prendo o non la prendo? La prendo fa niente La prendo pure questa magliettina che ci sta troppo carina In questo vediamo se ci sono stavolta nuovi aggiornamenti proprio cioè di pantaloncini No però non fa niente di pantaloncini ce li ho quindi cioè mi potrei mettere questo tipo Così dai Mmm I cappellini mi potrei mettere? No vabbè dai i cappellini e lascio mostrare No le cuffie ce le ho Vabbè dai non mi manca niente compriamo solo questo magliettino dai Allora vediamo come mi sta Si dai è carino Ehm c'è un'emergenza perchè? Quale emergenza? Oh cos'è? Che figo Che figo No vabbè ragazzi è un nuovo aggiornamento Che figo Allora visto che ho il nuovo aggiornamento io adesso mi faccio un altro outfit La 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 Ok vediamo la mia nuova ovviamente guardate che bello Ora Pantaloncini ovviamente allora ci stanno tantissimo questi qua E infatti mi tengo questi Come cappello Io ho questi qua No non me li metto perchè ne sono tutti brutti Mmm Questo è qua Si dai No questi Ok Allora i guanti ho solo questi Ma ci stanno bene quindi me li tengo Beh Ci scappano un bel po' Ne ho uno Non sai Allora mettiamoci queste nero o queste No ragazzi Vabbè Si fai l'autorazione Allora Mi sa che comunque ci stanno queste perchè ormai così non è più Mi sa che occhiali non c'è bisogno No mi sa che neanche della mascherina c'è bisogno Se non mi copre il viso No mi copre il viso Salvo capito salvo Salvo Salvatelo Io forse mi devo cambiare solo i capelli Perchè no Nei non ci stanno Allo massimo questi qua Ok Allora quindi adesso se mi clicco sulla testa Quindi posso diventare così Trasformazione Trasformazione Ok no mi piace troppo questo outfit Ma Perchè che per lì Va bene Lasciamo stare Comunque Allora Allora nel mentre che noi andiamo cantiamo per le strade e balliamo per le strade Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele No no vabbè ma mi fa troppa simpatia da sta faccia Allora vediamo se ne ho fatto qualche nuovo aggiornamento No forse no Lo ho messo No vabbè carina Con gli occhioni così no Vabbè mi fa troppa simpatia Allora ovviamente adesso mi faccio una foto Con il mio nuovo outfit mi sembra normale Allora perché Ok Sì però non Vabbè facciamo uno così Però mi cambio mostro Sì facciamo così Allora ragazzi Ogni volta mi si fa perché io ho il punto che se lo scherci Senza che Cioè che se lo clicchi senza scherci Forse Avete Ok facciamo la foto 3 1 2 Ok Ok inviamola allora questo l'ho fatto 16 giorni fa questo 0 minuti fa questo un anno un anno per un mese che carino questo allora andiamo sì mi sa che sono tre mesi fa quattro mesi fa di ora vedete da quanto da quanto praticamente questa foto sono di cinque mesi fa di ora infatti per questo si vedono un po' sfogate allora questo è cinque mesi fa cinque mesi fa cinque mesi fa cinque mesi fa sei mesi fa sì me lo ricordo quando ho fatto questa foto sembrava che mi stava tenendo il collo ok allora questo video si conclude qua spero che vi sia piaciuto oh ma c'è una tizia che piange no ragazzina ma che successo no poverina poverina vabbè comunque il video si conclude se questo gioco vi sia piaciuto xxd si dice pkxd oppure si dice pkxd vabbè comunque non lo so pronunciare quindi scrivetemi anche nei commenti come si pronuncia ciao ciao